Ciao amici sportivi, benvenuti qui sul secondo canale. Che cosa è successo oggi oltre al caso Balotelli-Parma, che vi ho già appunto portato nel video, è arrivata la sentenza, se così possiamo dire, riguardante il Chievo. Dopo la sentenza di ieri del Parma è arrivata quella del Chievo. Sentenza che ha dichiarato che non si può procedere con nessun processo nei confronti del Chievo. Nessun processo. Parma gli ha dato 5 punti, il Chievo per aver dato delle cifre un pochino inventate, se così possiamo dire, aver messo delle cifre un pochino un po' troppo gonfiate nel loro bilancio, non si può procedere con il processo. Perché? Vizio di forma, semplicemente. Il presidente Campedelli avrebbe richiesto alla procura di poter appunto parlarne, di poter appunto essere inserito all'interno degli atti la sua testimonianza. La procura ha rifiutato, questo viene visto come un vizio di forma e quindi il giudice ha dichiarato che il processo sportivo si deve annullare e si dovrebbe rifare prossimamente con appunto la testimonianza però del presidente Campedelli. Quindi in poche parole il Chievo rischiava di retrocedere appunto dalla Serie A, visto che la procura aveva richiesto ben 15 punti nella stagione precedente, quindi nel 2017-2018, a vantaggio quindi del Crotone che si sarebbe salvato praticamente, e invece no, per questa stupidagile, se così possiamo dire, giudiziaria, il Chievo per adesso si è salvato, anche perché molto probabilmente il processo è soltanto rinviato, ma ormai sarà sicuramente fatto poi a metà agosto, quando ormai la Serie A sarà quasi iniziata, per cui molto probabilmente i punti di penalizzazione per il Chievo arriveranno solamente nel campionato 2018-2019, per cui per il Crotone non c'è speranza e quindi praticamente la Serie A è salva, sia per il Chievo che per il Parma. Il Chievo probabilmente avrà i suoi 15 punti di penalizzazione, molto probabilmente anche perché il Cesena li ha avuti, sebbene sia fallita il Cesena li ha avuti, e quindi molto probabile che venga incolpato anche il Chievo, visto che Chievo e Cesena facevano questi magagni insieme, per cui se hanno reputato dare 15 punti al Cesena, molto probabilmente li daranno prima o poi anche al Chievo. Come la penso io? Penso che è stata fatta una bastardata nei confronti del Crotone vera e propria, una bastardata pesante e vedremo adesso che cosa decideranno con il processo, perché alla fine ancora non c'è, il processo ancora non c'è stato, quindi vedremo se diranno che invece no, il Chievo non ha fatto assolutamente nulla di quello che gli viene detto, oppure invece verranno dati questi 15 punti o poco meno, ecco, di penalizzazione nella stagione 2018-2019. Sicuramente con il meno 5 del Parma e molto probabilmente il meno 15 del Chievo, sarà una stagione, non dico un pochino ormai già decisa, però sicuramente sarà un po' falsata sotto certi aspetti da questo tribunale, da queste decisioni. Sarà una serie A un po' falsata, io spero che questi 5 punti del Parma vengano o cancellati completamente o comunque dimezzati notevolmente e spero appunto che il mio Parma si possa salvare per questo motivo. Vi ho già detto nel video di ieri come la penso riguardante la decisione del Parma, quindi per me andava assolutamente assolto, completamente assolto, oppure se gli devi dare la responsabilità oggettiva, quindi la colpevolezza, dovresti dargli la serie B. Ma visto che anche nella sentenza c'è scritto, il Parma per loro ha ottenuto sul campo la promozione, non potevano dare i punti di penalizzazione al campionato precedente. Così c'è scritto sulla sentenza ragazzi, c'è scritto proprio così sulla sentenza. Essendo il Parma, la partita contro lo Spezia è una partita legittima per loro, una partita legittima quindi il Parma ha ottenuto sul campo la promozione e non aveva senso dare i punti di penalizzazione. In poche parole, se avessero dato i punti di penalizzazione e quindi avrebbero fatto salire il Palermo, in realtà avrebbero avuto un problema forte, perché in realtà il Parma avrebbe dovuto richiedere il ritorno dei playoff, il rifacimento dei playoff, quindi avrebbero creato un precedente pericolosissimo. E quindi hanno detto facciamo così che è meglio. Molto bravamente è andata così. Vedremo poi in appello che cosa succederà ragazzi. Fatemi sapere in un commento qui sotto cosa le pensate del Chievo, sinceramente sono molto molto amareggiato, molto deluso per questa ennesima assurdità da parte del giudice sportivo.